In A11 a causa di un incidente in direzione Pisa ci sono code tra Prato Ovest e in uscita a Prato Ovest. Sulla FIPILI code a tratti in direzione Firenze tra la Strassigna e l'allacciamento per la 1, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Ricordiamo che per la giornata di oggi è stato proclamato uno sciopero di 24 ore per gli aeroporti di Firenze e Pisa. A Firenze fino al 29 giugno è in programma Pitti Immagine, ci sono provvedimenti e modifiche alla circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!